spesso mi chiedete ma chi sono i gatekeeper wikipedia dice il termine gatekeeping è stato ampiamente usato per descrivere il meccanismo con cui avvengono le scelte nel lavoro mediale specie le decisioni circa il lasciar filtrare o meno una particolare notizia tramite i cancelli di un mezzo di informazione facciamo un esempio pratico se dedico tutta la mia vita per divulgare che non siamo mai andati sulla luna e non dedico mai nemmeno un mezzo secondo alle enormi gaff errori aberrazioni montaggi in cgi che ancora oggi dopo oltre 53 anni dal presunto sbarco sulla luna fanno gli astro non auti beh è palese che sono un gatekeeper oppure sfrutto tutte le contro informazioni rispetto alla narrativa ufficiale delle malattie anche attraverso youtube senza mai ricevere uno strike appaio spesso in tv e poi mi metto anche in politica beh è palese che sono un gatekeeper ricordo fra le molteplici playlist a disposizione che potete allietare i vostri momenti prendendo visione delle comiche degli pseudo astrononauti gustandovi la playlist nasa astrononauti ma attori oggi sono qui perché di tanto in tanto si parla di uri na nello spazio non va bene farlo e vi spiego perché è possibile per una bella mente raccontare ad un presidente che beve urina e che berla non è poi così brutto come sembra è stato un programma nord ci sono voi spiegelati il record per il punto di tempo di sempre lo spazio per un americano 3 giorni di più di più 534 giorni e apporto è un record positivo di ripro e a mangiare la nostra nata e, frankly, a mangiare la mondo d'un ampio di gilandci voglio ringraggare questo è davvero qualcosa e voglio 정eri che spiegelati che ho scoperto così grande e importante record. È un grande honore di rompere un record come questo, ma è un honore per me, praticamente, di essere a rappresentare tutti i persone a NASA che rendono questo spazio spazio possibile e che rendono me rendere questo recordo facilmente. E' un momento molto interessante a essere a NASA. We're all very much looking forward as directed by your new NASA bill. We're excited about the missions to Mars in the 2030s. But water is such a precious resource up here that we also are cleaning up our urine and making it drinkable. And it's really not as bad as it sounds. That's good. I'm glad to hear that. Better you than me. Devo dirvi che c'è qualcosa di strano riguardo la struttura della toilette dell'ISS e l'abbiamo visto molte volte, ma l'idea di pulire l'urina per berla nuovamente è alquanto stupida. Ma veramente? È talmente stupida per un'astronauta donna come Peggy che ha fatto un sacco di passeggiate spaziali e che ha battuto anche questo record mondiale 53 ore e 22 minuti di passeggiata spaziale. Ma c'è pieno d'acqua là!